11 marzo l'ubbidienza val più che il sacrificio primo samuele 15 22 ubbidienza e rispetto due giovani marinai che da poco avevano iniziato il servizio militare approfittarono di una breve licenza per far visita ad un loro amico e alla sua famiglia uno di loro suonava la tromba e iniziò a duettare con l'amico che li ospitava che suonava il piano era domenica e il capo famiglia uscì per andare in chiesa e disse con un tono forte giovani io vi saluto di colpo il giovane trombettista si voltò portando la mano alla fronte e mettendosi sull'attenti il marinaio rimase imbarazzato per questo gesto e l'uomo per sdrammatizzare disse non sono mica il tuo comandante e scoppiarono a ridere il militare allora grattandosi la nuca e ancora imbarazzato esclamò siamo così abituati alla disciplina militare che mi è venuto spontanea signore faccia attenti ubbidienti e pieni di rispetto per colui che ne è degno gesù cristo l'unico vero conduttore grazie a tutti grazie a tutti